Salve a tutti, io sono Paolo Scala. Vorrei parlarvi di che cos'è il cloud, a cosa serve e perché è importante soprattutto diciamo in questo periodo storico per le aziende. Innanzitutto il cloud non è una particolare tecnologia quindi come magari molti pensano una tecnologia specifica o qualcosa no, in realtà il cloud computing è un modello, è un modello che aggrega diverse tecnologie preesistenti e le utilizza in una maniera differente. In che maniera le utilizza? Le utilizza virtualizzandole sostanzialmente quindi quello che succede è che attraverso il modello del cloud computing è possibile per chi ne usufruisce accedere a queste risorse che intendiamo risorse tecnologiche quindi possono essere servizi, possono essere piattaforme, possono essere strumenti, qualsiasi genere di risorse informatiche se vogliamo possono essere accedute sia in maniera ubiqua quindi attraverso dispositivi differenti per cui è possibile utilizzare un'eterogenità di strumenti, di dispositivi differenti per fruire di questi servizi, sia on demand ovvero quando c'è la necessità, quando c'è la necessità di utilizzare qualcosa, di utilizzare uno specifico servizio, di accedere ad una certa risorsa, l'infrastruttura cloud, quindi il modello cloud prevede il fatto di offrire questo genere di servizi, un certo tipo di servizi di tipo tecnologico. La cosa anche molto importante, molto forte che si porta dietro il modello, il concetto di cloud computing è il pay per use ovvero lasciando un attimo fuori quello che è il cloud diciamo pubblico, tutti quelli che sono servizi commerciali accessibili attraverso il cloud quindi messi a disposizione magari da vendori internazionali attraverso un'infrastruttura cloud sono decisamente diciamo elastici per quanto riguarda quello che bisogna pagare se si vuole usufruire di questi servizi rispetto a quello che viene erogato da chi mette a disposizione questi servizi, per cui questo cosa vuol dire ad esempio uno degli ambiti diciamo in cui è molto utilizzato il cloud computing è la virtualizzazione di infrastrutture hardware, questo che cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio avere a disposizione dei server o meglio l'utente finale ha l'illusione di avere a disposizione un server fisico mentre invece quello che dall'altra parte, dalla parte di chi eroga questo servizio è effettivamente presente è un server virtualizzato su un'infrastruttura fisica. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo genere di macchina virtuale, questo genere di server virtuale può essere configurato, può essere modificato sulla base delle esigenze dell'utente finale e in base a queste esigenze, in base a queste modifiche, a questa configurazione verrà poi diciamo contabilizzato quello che è l'effettivo costo del servizio erogato. Un ruolo molto importante che ha il cloud computing è sicuramente relativo a quelle che sono le aziende, sia piccole e medie imprese che anche grandi aziende. Nel momento in cui un'azienda ha bisogno di un'infrastruttura tecnologica attraverso il cloud computing è possibile usufruire di infrastrutture molto più elastiche rispetto che, e anche molto meno nerose se si vuole, rispetto a quelle che sono le infrastrutture tradizionali fisiche. Questo perché? Perché prima di tutto noi stiamo chiedendo un servizio a terzi, per cui sono persone terze che si occupano della gestione, della configurazione e del fatto che sia sempre disponibile questo servizio. Quindi non dobbiamo farci carico noi, in termini di azienda, della gestione di questo servizio, della gestione dell'infrastruttura, perché chi eroga questa infrastruttura diciamo tecnologica attraverso il cloud si occupa della gestione, della configurazione, della manutenzione di questa infrastruttura. In più, essendo virtualizzata, quindi essendo sostanzialmente del software, è molto più semplice rispondere a livello di scalabilità di questa infrastruttura a nuove esigenze che possono manifestarsi nel ciclo di vita di un'azienda. Per cui se io, azienda, ho acquistato una certa infrastruttura tecnologica che prevede, non so, 20 server, arrivo a un punto nel mio ciclo di vita per cui io ne ho bisogno di 10, allora non solo io devo acquisire 10 server fisici e quindi con un certo esborso diciamo economico, ma in più devo anche fare in modo di integrarli con la mia infrastruttura attuale e quindi risolvere tutta una serie di problemi e di configurazione e di deployment, tutta diciamo una serie di problemi che non è assolutamente banale affrontare, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico. Questa cosa con il cloud computing invece viene risolta perché il fatto che siano delle infrastrutture virtuali vuol dire che io posso attraverso il software replicare o comunque fare il deployment di una parte della stessa infrastruttura in maniera molto veloce, diciamo quasi come se fosse schiacciando un bottone. Quindi questo prima di tutto abbatte i costi perché ovviamente i server virtuali diciamo che a cui un'azienda accede, che un'azienda acquista attraverso un cloud vendor diciamo, sono sicuramente più economici rispetto a dei server fisici e alla loro gestione. Poi è sicuramente qualcosa di più veloce perché è davvero questione di minuti più o meno quando parliamo di deployment di un'infrastruttura virtuale, di deployment di un server virtuale e sicuramente è molto meno costoso, diciamo che il costo è quasi a zero per quanto riguarda la gestione, quindi la gestione diciamo sistemistica dell'infrastruttura.